Benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo la top 5 delle destinazioni low cost per un'estate indimenticabile in Portogallo. Se sogni un'estate indimenticabile in un luogo affascinante senza dover svuotare il portafoglio, il Portogallo offre un'ampia gamma di opzioni low cost per i viaggiatori. Questo video ti condurrà alla scoperta delle 5 migliori destinazioni low cost in Portogallo per una vacanza estiva memorabile. Dalle spiagge incontaminate, dell'Algarve ai villaggi costieri meno conosciuti, il Portogallo offre un mix affascinante di cultura, natura e storia, il tutto senza costringerti a spendere una fortuna. Preparati a esplorare queste destinazioni economiche e a creare ricordi straordinari durante la tua prossima estate in Portogallo. Numero 1 Aveiro. Aveiro, conosciuta come la Venezia del Portogallo, è un tesoro nascosto che offre una vacanza estiva indimenticabile a costo contenuto. Questa affascinante città è rinomata per i suoi canali, noti come Ria e le caratteristiche imbarcazioni colorate chiamate Moli Seiros. Per esplorare il centro storico e i canali puoi noleggiare una bicicletta a buon mercato, permettendoti di scoprire la città in modo economico e a tuo ritmo. Il Museo de Aveiro, situato nel convento dei Jesus, è una tappa imperdibile per gli amanti della storia e della cultura. L'ingresso è accessibile e ti consente di immergerti nella ricca storia locale. La gastronomia di Aveiro è una delizia per il palato e a prezzi ragionevoli. Ristoranti come Obairro e Oteleiro offrono specialità locali come la Caldeirada de Enguias, zuppa di anguille, e il Arroz de Marisco, risotto di frutti di mare, a tariffe accessibili. Per il pernottamento a basso costo, gli ostelli come Aveiro Rossio Hostel e Ovar Art Hostel offrono comodi dormitori a prezzi convenienti e un'atmosfera accogliente, ideale per i viaggiatori con un budget limitato. In alternativa, Hotel Aveiro Center è una scelta economica tra gli hotel. Oltre alle attrazioni menzionate, il Faro de Aveiro offre una vista panoramica spettacolare sulla città e i suoi dintorni, perfetta per una passeggiata al tramonto. Il Mercado do Pesce è un luogo ideale per sperimentare il pesce fresco e immergersi nella cultura culinaria locale. Aveiro è una destinazione ideale per una vacanza estiva economica in Portogallo, con un'ampia gamma di attività, opzioni di ristoranti e alloggi accessibili. La sua bellezza unica e la sua atmosfera affascinante renderanno la tua vacanza davvero speciale senza compromettere il tuo budget. Numero 2. Nazaré Nazaré è una località balneare affascinante lungo la costa centrale del Portogallo, che promette un'estate indimenticabile a costi contenuti. Nonostante sia rinomata per le sue gigantesche onde surfate dai temerari, questa destinazione offre molto di più a chi è alla ricerca di avventure economiche. Le sue spiagge, come Praia da Nazaré o Praia do Norte, sono perfette per una giornata di relax al sole e un tuffo nell'Atlantico. È possibile noleggiare comodamente sedie a sdraio e ombrelloni senza dover spendere una fortuna. I tramonti sulla spiaggia di Nazaré sono particolarmente suggestivi e possono essere goduti senza costi aggiuntivi. La gastronomia di Nazaré è un'altra ragione per visitare questa località. I ristoranti locali, come Tascantiga e Mar a Vista, offrono piatti di pesce fresco e frutti di mare a prezzi convenienti. Prova la caldeirada de peixe, zuppa di pesce, o il baccalá uabrash, baccalá alla portoghese, per un'esperienza culinaria autentica e gustosa. Per l'alloggio a basso costo, considera il Nomad 360 Hostel o il Hotel Mar Bravo. Entrambi offrono sistemazioni pulite e confortevoli per i viaggiatori, con un budget limitato, con gli ostelli che sono un'opzione popolare tra i giovani in cerca di un ambiente socievole. Oltre al surf, Nazaré offre numerose altre attività, tra cui passeggiate panoramiche lungo la costa, gite in barca per esplorare la bellezza naturale della zona marina circostante e una visita alla fortezza di São Miguel Arcanjo, situata sulla cima di una collina, che offre una vista panoramica della città e della costa. Infine, il centro storico di Nazaré, con le sue stradine acciottolate, le facciate colorate e le botteghe artigianali è un luogo affascinante da esplorare a piedi. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. Numero 3. Tavira. Tavira è un vero gioiello dell'Algarve orientale e offre un'esperienza estiva memorabile a prezzi accessibili. Questa graziosa cittadina è rinomata per la sua autenticità e il suo fascino storico. Il centro storico di Tavira è perfetto per una passeggiata con le sue stradine lastricate, i tetti in terracotta e i piccoli caffè accoglienti. Una delle attività imperdibili a Tavira è una visita all'isola di Tavira. Per raggiungerla puoi prendere un breve traghetto dal centro della città. L'isola vanta spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, ideali per un giorno di relax al sole. Le tariffe per il traghetto sono ragionevoli e il costo di noleggio di lettini e ombrelloni è accessibile. Per quanto riguarda il cibo, i ristoranti locali offrono piatti tradizionali dell'Algarve a prezzi convenienti. Prova il cataplana de marisco, uno stufato di frutti di mare o il polvo a lagareiro, polpo in salsa d'aglio e olio. Presso ristoranti come Restaurante Acqua Sul o a Pestiquera. Per il pernottamento a basso costo puoi considerare il Chi Hostel Tavira o l'Oi Hotel Villa Galè Tavira. Entrambi offrono sistemazioni accoglienti e accessibili per i viaggiatori con un budget limitato. Tra le attrazioni da non perdere ci sono il Castello di Tavira, da cui potrai ammirare una vista panoramica sulla città e sul fiume Gilao e il Ponte Romano, che collega il centro storico all'isola di Tavira. Tavira è una destinazione low cost, perfetta per un'estate indimenticabile in Portogallo. Numero 4. Viana do Castelo Viana do Castelo, situata nella regione settentrionale del Portogallo, è una località costiera affascinante e un'ottima scelta per un'estate economica. Le sue spiagge pulite e le bellezze naturali la rendono ideale per una pausa rilassante. Una delle principali attrazioni è il Santuario de Santa Lucia, da cui puoi godere una vista panoramica mozzafiato sulla città e l'oceano Atlantico. Per quanto riguarda le attività, oltre a rilassarti in spiaggia, puoi esplorare il centro storico di Viana do Castelo con le sue stradine acciotolate, edifici storici e negozi tradizionali. Le gite in barca lungo il fiume Lima sono anche un'opzione economica per scoprire la bellezza della zona circostante. La cucina locale è un altro punto forte di Viana do Castelo. Ristoranti come Restaurante Cabedelo o Atasquigna da Linda offrono piatti di pesce fresco e specialità regionali come il bacalao a Gomez de Sa, a prezzi convenienti. Per il pernottamento a basso costo, considera il Chiostel Viana do Castelo o l'hotel Larangera. Entrambi offrono alloggi accessibili e confortevoli per i viaggiatori con un budget limitato. Non dimenticare di visitare il Monte de Santa Lucia, la cui vista panoramica e il suo monumento sono spettacolari, e il Ponte Eiffel, un ponte in ferro progettato dall'ingegnere Gustave Eiffel. Inoltre, le spiagge circostanti come Praia da Arda e Praia do Cabedelo sono perfette per il relax e gli sport acquatici. Numero 5. Evora Evora è una città incantevole situata nella regione dell'Alentejo, nota per il suo patrimonio storico e la sua bellezza architettonica. Per una vacanza estiva low cost, Evora è una scelta eccellente, offrendo molte opportunità di esplorazione e relax a prezzi accessibili. Una delle attività principali a Evora è l'esplorazione del suo centro storico, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Passeggiare tra le strade lastricate e ammirare l'architettura storica, tra cui la Cattedrale di Evora e la famosa Università di Evora, è un'esperienza culturale affascinante. Non dimenticare di visitare il Tempio di Diana, un antico tempio romano ben conservato che rappresenta una parte importante della storia della città. La cucina dell'Alentejo è rinomata per la sua semplicità e genuinità e a Evora puoi gustare piatti tradizionali a prezzi convenienti. Ristoranti come Casa do Parche o Tasquegna do Oliveira offrono specialità regionali come la sopa di tomate, zuppa di pomodoro e il porco a alentejana, maiale con vongole, a prezzi accessibili. Per l'alloggio a basso costo, Evora dispone di diverse opzioni, tra cui Lee Hostel Evora e l'alloggiamento Porta Alegre. Entrambi offrono sistemazioni confortevoli per i viaggiatori con un budget limitato. Oltre alle attrazioni storiche, Evora offre la possibilità di esplorare la campagna circostante con i suoi vigneti e le cantine vinicole dell'Alentejo. Puoi anche visitare il Museo de Evora per una maggiore comprensione della storia e della cultura della regione. Evora è una destinazione low cost, ideale per un'estate indimenticabile in Portogallo, con il suo ricco patrimonio culturale, la sua cucina deliziosa e una vasta gamma di attività accessibili. La sua bellezza storica e architettonica la rende una scelta perfetta per i viaggiatori che desiderano scoprire il Portogallo in modo economico senza rinunciare a un'esperienza autentica. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.